Perché Crystal Radio è qui a Sanremo per raccontarvi la Kermes della musica italiana. Devo dire che è la prima volta che vengo a Sanremo ed è veramente un carrozzone pazzesco, delirio allucinante. Ed era solo lunedì ieri, quindi chissà cosa succederà oggi. Ieri davvero tantissime persone, migliaia e migliaia di persone assiepate intorno alla Green Carpet, questa lunga pasterella verde che attraversa le principali piazze della centro città, che collega il Palafiori, Piazza Colombo e poi ovviamente davanti all'Ariston tantissime le radio, tantissimi, abbiamo già visto Galighi, abbiamo visto Mahmood passare, i colleghi di Radio 2. Fiorello con il suo studio che è proprio davanti all'Ariston. Insomma, davvero davvero una grandissima manifestazione che vi racconteremo qui in diretta da Sanremo fino a domenica, perché noi siamo qua tutti i giorni, ve la raccontiamo tutti i giorni. E con Mollami, Icomsenastepa, all around, si lo sappiamo, ma che c'è poi sotto quella loop, quella sample di Inicamozze con Icomsenastepa. 7 e 12 minuti, martedì 6 febbraio, in diretta da Sanremo. Se vi collegate anche su Milano News, potrete vedere che alle mie spalle si sta alzando il sole su Sanremo. Ho questo sogno della vetrata su Sanremo, non ci posso credere. Adesso lo dico anche a Viola, che ci sta coaduivando con la produzione dallo studio di Milano. Appena torniamo, butto giù tutti i muri e facciamo la vetrata anche lì. Voglio tutta la vetrata su Bernabò Visconti, Quarto Cagnino. E allora voi che fate? Cosa state facendo? Dove siete? Potete raccontarcelo sulla app, avete il nostro numero di Whatsapp e poi potete anche scriverci tranquillamente anche a tutti i contatti, anche in DM sui vari social. Noi siamo sempre qui ad aspettare i vostri racconti e sempre qua a raccontarvi quello che succede a Sanremo. Allora, prima impressione di Sanremo, ma prima impressione di Sanremo è davvero un grande spettacolo, devo dire la verità. Nulla è lasciato al caso. Noi siamo accreditati anche alla Sala Stampa, grazie appunto a Crystal Radio. Siamo accreditati alla Sala Stampa Lucio Dalla, che è nel Palafiori, questo grande centro congressi che c'è a due passi da Piazza Colombo e a quattro passi dal Teatro Ariston. E insomma tantissimi, arrivano quasi 5.000 richieste di accrediti all'anno per poco più di 700 posti disponibili tra le due Sala Stampa. Quello del Teatro Ariston, il cosiddetto Roof, che insomma ci vanno quelli della stampa, ci vanno quelli importanti, importanti. E poi vabbè, noi altri, invece ci mettiamo lì alla Lucio Dalla, bellissima, bellissima, ognuno con la sua postazione, una roba stupenda. Anzi, vi racconteremo anche il backstage, il dietro le quinte di quello che vuol dire anche seguire una kermesse musicale come quella di Sanremo. Tanti gli artisti che abbiamo visto, ieri appunto Gali con il suo ricciolo, che è questo personaggio, non so l'avete visto, che va in giro con questa maschera, davvero inquietante direi dal vivo. Ah sì sì sì, non dà l'idea sui social di quanto è così abbastanza particolare questo personaggio che accompagna Gali nelle sue performance in giro per la città. Un problema grosso, anzi, parafrasando, ve lo ricordate, Johnny Stecchino, no? Che diceva che Valermo, un problema già, il traffico, ecco, ricordando questo, ecco, quello è un problema grosso anche qua, nel senso che ieri abbiamo visto. Praticamente la città è bloccata, è tutta chiusa, non si passa da nessuna parte, tantissime le norme anche di sicurezza, quindi con dei camminamenti, con tanti check point, in cui ci sono polizie, carabinieri, security privata degli eventi, insomma, tantissima, tantissima sicurezza. Te l'hai avuto ieri sera invece un'allarme bomba già, è stato evacuata una villa qui vicino dove c'era un evento con tanti big della musica italiana, ma è questo, signori, gli occhi del mondo in questo momento sono qui su Sanremo, quindi per una settimana il problema anche di Sanremo sarà il traffico, va bene? Il problema è che invece attanaglia spesso la nostra città, lo sappiamo benissimo, ma per riuscire a scampare alle grinfie del traffico, noi che abbiamo luce verde, eh sì, perché noi ci colleghiamo tutte le mattine con la redazione di luce verde per farci raccontare in tempo reale la situazione del traffico su Milano, in diretta, con la redazione di luce verde, fotografia proprio, cioè in questo istante cosa succede? Posso prendere via le Papignano? Posso girare a sinistra in via Quattocanino? Eh, io non lo so, ma c'è chi lo sa, c'è chi è il professionista e questi professionisti sono gli amici di Luce Verde. Luce Verde, a te la linea! Neffa, ha giù perso sonno, è quello che rischieremo di perdere questa settimana qui a Sanremo, noi giornalisti che seguiremo la KMS. Intanto, chi ci sta seguendo in diretta su Milano All News può vedere il sole sorgere su Sanremo, eh sì, quella che vedete è la collina qui proprio di fronte a Sanremo, di fronte al nostro studio qui in Sanremo. Siamo in diretta, questa è la prova e volevo farvi e condividere con voi questo bellissimo panorama che abbiamo qui dalla finestra del nostro studio. Tra parentesi, andremo poi in giro nella città, oggi poi cominciamo a fare vari collegamenti, vari prodotti, contenuti, che poi troverete anche nelle altre trasmissioni di Cristal Radio. Sì, perché poi tutti i giorni saremo collegati e racconteremo, racconteremo quello che avviene qui a Sanremo. Quindi mi raccomando, grazie soprattutto ai messaggi, ai Whatsapp che stanno arrivando, tanti Whatsapp che stanno arrivando e ve li voglio leggere alcuni che sono arrivati in questo momento al 33178-53555. Allora c'è scritto Marilena, ciao Fabio, salutaci Sanremo e raccontaci tutti gli scoop. Va bene, adesso io sono molto interessato a Gali e al suo riccio, ve lo dico la verità. Tra parentesi ha questa faccia che quando in un certo punto siamo saliti sul van per andare via e hanno chiuso le porte, poi le hanno riaperte poco dopo, vedete che adesso si sarà tolta la maschera, vedremo, e invece no, era ancora lì con la maschera. Tra parentesi, seduto così, sembrava un po' attapirato, non so, ma che molto probabilmente è il messaggio che vuole mandarci Gali con questo personaggio, ma cercheremo di capirlo durante questi giorni. Grazie anche ad Alberto che sempre al 33178-53555 ci scrive e ci scrive Buongiorno Fabio, è un bel sentirti da Sanremo, buona settimana e coraggio per il poco dormire che ti aspetta. Ha gioperso sonno, forse no, non ha gioperso, non abbiamo tempo. Eh sì, perché ieri sera, devo dire la verità, 9 e mezza, 8 e mezza, già 9 e mezza, la città si stava già sbuotando ieri sera, ma stasera non sarà così. Eh no, stasera non sarà così, perché stasera inizia la Kermess e chissà che ora finirà la trasmissione e poi tutto il dopo, noi lo seguiremo dalla sala stampa, poi ogni mattina comunque alle 7 siamo qui in diretta per raccontarvelo qui su Cristal Radio, perché tutte le mattine comunque noi ci saremo, tutte le mattine vi racconteremo le cose, ma non lasciamo per ora da parte neanche la città di Milano, perché comunque stiamo leggendo anche i giornali di Milano, abbiamo qui davanti un po' di informazioni, non parleremo quindi solo di Sanremo, ma parleremo anche di Milano, ad esempio parleremo dell'occupazione del liceo Severi Correnti, dopo le grandi polemiche di quello che è successo all'interno, sembrerebbe che appunto i ragazzi non sembrerebbe stato così, i studenti hanno insomma sporcato e fatto alcuni atti un po' troppo forti all'interno della scuola e dopo questo, dopo l'occupazione, allora gli stessi ragazzi hanno voluto parte di questo, appunto ripulire la scuola dopo l'occupazione. Una studentessa del collettivo ha detto anche, tornassi indietro non lo rifarei, quindi insomma è interessante, su Repubblica Milano c'è questo lungo articolo che racconta come alcuni esterni sono stati visti a scuola sin da martedì, secondo la preside appunto, i rappresentanti d'istituto invitano gli studenti del collettivo a prendersi invece le loro responsabilità, quindi c'è anche un diatriba all'interno, uno scontro all'interno dei movimenti degli studenti, proprio degli studenti del Severi Correnti, da una parte i rappresentanti d'istituto, dall'altra i collettivi con la preside che dice, siamo convinti di aver visto degli esterni all'interno della scuola, i danni arrivano da queste persone, i collettivi non hanno fatto niente, i rappresentanti d'istituto invece dicono, ragazzi prendetevi le vostre responsabilità. E allora andiamo avanti invece con la musica, questo non si può parlare di gente che suona, di gente che fa grande musica senza pensare alle chitarre, alle grandi chitarre dei Death Straits e anche a questa grandissima canzone che è Money for Nothing. Voilà, voilà, Gali, Gali, alle 7.30 minuti, 31 in questo istante abbiamo iniziato la seconda parte di trasmissione, allora ho detto che avremmo letto anche notizie su Milano, infatti qui in diretta da Sanremo comunque prendiamo in mano i giornali locali milanesi e le notizie di Milano, facciamo una veloce carrellata ad esempio da Milano Today, Milano Today che apre con un dossier sul quartiere Lorenteggio-Giambellino e dal titolo come non procede la più importante riqualificazione pubblica di Milano. Ebbene sì perché il piano da 100 milioni per rigenerare Giambellino e Lorenteggio si trascina ormai da 10 anni e dovrebbe concludersi nel 2026 ma i lavori sono tuttora in corso e da quanto sembrerebbe anche molto indietro e sì perché della trasformazione di Giambellino e Lorenteggio si parla ormai dal lontano 2016 quando è stato siglato un accordo tra regione comune di Milano e Ale, un'azienda di edilizia residenziale che gestisce per, anzi proprietari anche, ma anche del patrimonio diciamo a livello regionale ma si tratta di un piano di rigenerazione mastodontico. Oltretutto non tanto per gli obiettivi che si prefigge ma quanto per la quantità di case che andrebbero rigenerate e ovviamente a che punto abbiamo parlato di 100 milioni di euro. Tutto questo ha portato che dal 2016 ma già prima se ne parlava ad oggi tutto ancora è molto molto in alto mare. Alcuni lavori sono già iniziati, in realtà sono state già anche buttati giù alcuni palazzi in quella zona ma comunque comunque sia veramente in ritardo sulla tabella di marcia. Il Comune di Milano invece cosa ha fatto? Ieri in Consiglio Comunale ha approvato un bilancio dedicato ai giovani. Ha approvato un ordine del giorno per introdurre il bilancio intergenerazionale. Sarà un documento ma anche una pratica relativa a tutti gli atti con effetti plurennali che dovranno prendere e prevedere l'impatto sulle future generazioni. Quindi un passo in avanti anche verso quell'ascolto delle nuove generazioni che a Milano sta venendo spesso e spesso e volentieri richiesto da queste generazioni con tantissime manifestazioni, tantissimi incontri che avvengono in tantissimi luoghi della città. Non solo dalla parte politica ma in realtà anche a livello proprio tutto l'arco costituzionale del Consiglio Comunale di Milano è stato investito dalle richieste di tutti e di tantissimi cittadini giovani della città di molti schieramenti politici che insomma le politiche giovanili devono avere un grande e largo spazio soprattutto per pensare al futuro di questa città e quindi non solo a quello che una volta veniva definito le politiche giovanili e quindi fare quelle cose per i giovani come dicevano i politici una volta, no anzi pensare alle generazioni future e quindi all'intergenerazionalità cioè oggi, domani ma soprattutto dopo domani. Invece ieri un problema molto grosso, una tragedia a Corsico in via Montello perché è esploso un appartamento appunto a Corsico sventrato completamente un palazzo. È successo nella mattinata di ieri il 1 di 5 febbraio e sul posto sono arrivati appunto i vigili del fuoco il 118, primo boato, pioggia di calcinacci, macieri in strada che fortunatamente non ha causato feriti questa caduta di calcinacci in strada, insomma quindi alle 11 e un quarto, poi come le 11 e un quarto appunto riferito verso i vigili del fuoco dai testimoni oculari, questa grossina esplosione e questa pioggia proprio pioggia di mattoni calcinacci sulla strada che poteva veramente essere davvero davvero pericoloso. Ovviamente sembrerebbe causato da una fuga di gas e insomma staremo un po' a vedere anche il seguito delle indagini. Analisa, euforia, l'euforia che sta pervadendo le strade di Sanremo, ve l'ho detto, l'hanno tantissimi i partecipanti a questa Germess ma anche gente che non si capisce bene com'è che sta qui nel pubblico, ragazzi abbiamo visto di tutto, ieri sera con il collega Alex Piero camminavamo lungo le strade di Sanremo a un certo punto c'era un grande agglomerato di persone, erano lì tutte accalcate, cosa c'è, cosa c'è, non c'è, c'era semplicemente una signora con un coniglio in mano e tutti che volevano fare la foto con questa signora con un coniglio in mano. Non so questo cosa c'entrasse con Sanremo ma di fatto insomma questo è il mood di quello che succede in questa città. Nel frattempo voglio far vedere a chi si sta guardando su Milano News come si sta alzando la bella giornata qui su Sanremo ed ecco qui infatti la collina di Sanremo davanti a noi, questa è la mia vista tutte le mattine quando trasmetterò con voi e quindi insomma pensate che bello alzarsi la mattina di avere così Sanremo davanti agli occhi. Sanremo che come vi dicevo appunto sarà il nostro set, la nostra location per tutta la settimana e da cui cercheremo di raccogliere anche indicazioni, racconti e tutto. So che insomma siamo in questo piccolo studiolo che abbiamo costruito su questo balconcino qui fuori dalla nostra casa e quindi vi racconteremo tutto da qua. Tra questo anche raccontare e leggere comunque le notizie che vanno a Milano notizia che non vorremmo leggere per l'ennesima volta ma che in realtà invece dobbiamo per forza leggere ancora. Da Milano Today a Segero picchia a sangue un tramviere in centro a Milano il dipendente TM è finito al policlinico e per fortuna non è in gravi condizioni. Cosa è successo? Ieri all'altezza del Pirellone per intenderci proprio lì in Fabio Filzi sul tram 9 nasce una collustazione tra due passeggeri. Il tram, il tramviere ferma il tram invitando a scendere le persone che stavano litigando su questo mezzo. Cosa succede? Subito uno dei due aggredisce proprio fisicamente con grossa forza il tramviere quindi che subito dopo poi l'aggressore un 27enne scappa via. Il tramviere invece a 40 anni viene portato al policlinico per fortuna non è in gravi condizioni. Il 27enne che si è messo a scappare è stato intercettato e fermato pochi metri dopo dalla polizia locale che è riuscito comunque a portarlo in realtà al San Paolo anche lui per controlli perché insomma era in evidente stato di eccitazione e alterazione psico fisica. Questo è un tema che ATM ha portato spesso e volentieri, soprattutto i sindacati di ATM l'ha portato spesso e volentieri alla luce. È un tema molto importante, molto complicato da gestire e soprattutto che rende quello del tramviere un lavoro che non dovrebbe essere un lavoro pericoloso. E invece risulta così, risulta così in una città come qua di Milano dove sono certe linee, poi anche in quello c'è da dire, non è che tutte le linee sono così, ci sono delle linee più rispetto delle altre. Allora lì cosa fare? Maggiori controlli, facciamo lo stato di polizia, mettiamo quelle cose, sapete quanto sono contrario a quelle squadre di sicurezza ATM che sembrano dei Rambo che vanno in giro perché secondo me non fanno nient'altro che aumentare invece il disagio sociale, la violenza, instigare chi vuole essere violento e violento anche con Rambo davanti, non so come dire. Forse davvero bisogna cominciare a pensare a della grande, grande, grande prevenzione a livello locale, a livello sociale, ma sicuramente a livello nazionale e aiutare anche l'accesso a quello che possono essere i servizi come i certi o servizi psicologici, psichiatrici che possono aiutare i cittadini maggiormente in difficoltà come quelli che ad esempio abbiamo appunto rassentito essere poi i protagonisti di queste situazioni. Andiamo avanti con la musica, Peggy Gu e Lenny Kravitz, Believe in Love Again. Peggy Lu, Lenny Kravitz, Peggy Gu e Lenny Kravitz, Believe in Love Again, 7 e 45 minuti in diretta da Sanremo, in diretta dal nostro studio di Via Mazza in Sanremo qui per raccontarvi tutto quello che succederà in questa settimana sul festival ma anche per raccontarvi quello che succede a Milano e quello che succede a Milano è interessante perché? Perché c'è stato il miracolo. Eh sì, dopo 13 giorni di città e di qualità dell'aria superiore ai livelli di guardia, finalmente siamo scesi con il PM10. Eh sì, nella giornata di domenica il PM10 è sceso, il lunedì ha tenuto perché se andiamo a vedere il rapporto di Amat sulla giornata di lunedì, la colonnina più alta, come sempre quella di via Senato era a 44 invece che non sopra i 50. Eh dopo, ve l'ho detto, 13 giorni consecutivi dove i livelli erano superiore ai 50. Qualcosa finalmente ha funzionato, ovviamente il fatto che c'era un po' di vento, semplicemente quello, semplicemente quello. Eh ma nonostante appunto 13 giorni consecutivi di PM10, scusate, sopra i livelli. C'erano entrate in vigore anche le norme e i divieti per la circolazione dei mezzi più inquinanti e infatti a Milano si torna a parlare delle domeniche senza auto. Leggiamo da Milano Today, i consiglieri di maggioranza dei Verdi hanno detto che porteranno l'idea nelle prossime sedute del Consiglio Comunale. a Milano potrebbero tornare le domeniche a piedi. Il condizionale è l'obbligo però perché per il momento si tratta solo di un'idea lanciata dai due consiglieri dei Verdi che sono appunto in Consiglio Comunale. Però vediamo perché l'idea potrebbe trovare magari a prodare appunto in Consiglio, a prodare al voto e magari trovare la sponda in quanto consigliere più green del Partito Democratico e poi quindi magari a quel punto qualcuno potrebbe accettare la cosa. Funziona o non funziona? Io credo che le domeniche senza auto non servano assolutamente a niente a livello di inquinamento ma servono a livello sociale, a livello culturale per vivere la città in maniera diversa. Credo che sia interessante il poter pensare di vivere in una città con i piedi, camminando, andando in giro, visitandola, andando in bicicletta non solo per diletto, non solo per andare a fare la scampagnata fuori porta, ma per vivere appunto la città in una nuova dimensione. Diciamo, forse quella della dimensione è proprio la risposta a tutto quello che potrebbe essere interessante nel vivere una città come Milano, che tutti gli anni, tutti i giorni dell'anno viviamo in maniera frenetica, ma che sarebbe bello e interessante invece vivere in maniera più lenta anche durante la settimana, quindi non solo le domeniche. Io credo che la cosa interessante sarebbe pensare alla giornata senza auto che non sia la domenica, pensate come potremmo rivoluzionare la città, cioè dover andare comunque al lavoro senza auto, ovviamente pensando a tutto quello che concerne, quindi se arrivi da fuori che tu possa venire, ad esempio ti amo gratuitamente per un giorno, i posteggi di ATM, così la gente può arrivare, mettere la macchina e prendere i mezzi e scoprire che magari ci mette di meno. Allora magari quando poi rimettiamo, pensiamo a una settimana, una settimana di posteggi gratuiti ATM e incentiviamo il trasporto pubblico con la settimana. Chissà che magari qualcuno poi quando si ritornerà alla normalità della nostra anormalità, scelga invece di vivere la città con i mezzi pubblici. Chi ci sta seguendo in diretta su Milano News in questo momento sta vedendo la collina di Sanremo, sta vedendo il sole sorgere su Sanremo, un po' e ditecelo al 331-7853-555, il nostro numero di Whatsapp, a cui potete scriverci tutto il giorno, tutto il giorno, tutto il giorno, Cristal Radio! The Rolling Stone, Flip the Switch, in diretta da Sanremo, qui per raccontarvi il festival, in diretta su Cristal Radio con Good Morning Milano, o meglio con Good Morning Sanremo per questa settimana, ma insomma come avete visto il focus è sempre sulla nostra città, è sempre su Milano, è sempre per raccontarvi quello che succede nella nostra città, ma anche quello che succede in Sanremo, come vi dicevo ieri è stata la prima giornata di noi qui in Sala Stamba, abbiamo girato tantissimo, tantissimo il pubblico, tantissima gente e a detta di chi si fa più Sanremi di me, cioè di chi è stato qui più anni, sembra proprio che quest'anno insomma sia scoppiata la Sanremo mania, sia scoppiata davvero in maniera fortissima, c'erano i baristi che dicevano ma ho mai visto niente, siamo solo a lunedì e già guarda che roba che c'è, i vigili, abbiamo parlato con alcuni della polizia locale che dicevano ma io me lo ricordo gli altri anni, tutto sto casino, allora o abbiamo una memoria corta oppure davvero quest'anno chissà cosa, in mente Amadeus, cioè questa è la verità, chissà cosa ha combinato Amadeus, intanto la città si sveglia, la città si sveglia, si sveglia anche la nostra casa, sentite qualche rumore, sono i nostri colleghi che si stanno alzando facendo colazione, però magari li portiamo qui a bere il caffè insieme a noi, non sono un gran bello spettacolo appena sveglia, ve lo dico, però vabbè magari in quel caso vi consigliamo di seguirci solo in radio e non guardare la diretta video, così almeno non avete problemi alla mattina, insomma vedere certi spettacoli la mattina non è il massimo comunque noi vi la raccontiamo saremo, ve lo raccontiamo in diretta fino a venerdì con il mondo di Milano, ma saremo qui comunque tutto il weekend adesso comunque dobbiamo fermarci, perché adesso andiamo in pausa, poi torniamo, c'è il giornale radio ma poi appunto torniamo qui in diretta da Saremo per raccontarvi, staremo prima un po' di musica insieme a Mekna e Coco con San Giovanni insieme nella canzone Tilt a fra poco Irene Cara, What a Feeling, Flashdance, questo era il Crystal History di questa mattina Crystal History delle 8, che come sempre sapete alle 8 ci va a questo momento, un momento importante di musica storica, diciamo, la musica che ha fatto la storia della musica la musica che ha fatto la storia della musica, non simbolo, no, non è vero, è proprio quella che va nel Crystal History tutte le mattine alle 8 qui su Crystal Radio, all'interno di Good Morning Milano, mi avete scritto in tanti al 3317853555, raccontaci, raccontaci com'è Sanremo e come funziona Sanremo, adesso vi racconto tutto quello che succede, che bisogna fare per venire qui a Sanremo, no, prima di tutto bisogna essere accreditati, accreditati presso la sala stampa e quello è il lavoro che viene stato fatto dalla struttura appunto di Crystal Radio che ha fatto in modo che noi potessimo essere qui e raccontare il festa di Sanremo, poi si viene giù in treno perché è impossibile avvicinarsi con le auto a questa città nei giorni del festival, davvero, io credo che si triplichi almeno la popolazione di Sanremo nei giorni del festival e poi iniziano i periglinaggi, i giri, girare in giro insomma, ha detto la milanese, il pirlare per la città, perché sono tanti, sono tanti eventi, eventi chiusi, eventi aperti, tante location, sta nascendo da quello che ho capito poi anche con i colleghi che invece stanno facendo più Sanremo, che hanno fatto più volte Sanremo rispetto a me, una sorta anche di fuori Sanremo, non so come dire, una cosa simile, perché c'è la tendenza, abbiamo visto, a creare dei luoghi anche lontani dall'Ariston che però richiamino al festival o comunque che siano magari di sponsor, di realtà che vogliono essere a Sanremo i giorni del festival, uno di questi ad esempio è Veralab, vi ricordate l'estetista cinica? Ecco bene, quella che aveva fatto l'albero di Natale, non il Natale passato ma quello ancora prima a Milano, quell'albero di Natale tutto rosa? Perfetto, qui a Sanremo c'è la ruota panoramica di Veralab, quindi la milanesissima estetista cinica ha messo proprio qui nella città dei fiori, nella città del festival, una ruota panoramica dietro alla rocca dove c'è dentro invece un museo e una mostra che parla di Sanremo, del festival intitolata Festival si mostra, che oggi voglio andare a vedere per bene, tra parentesi, bene nel retro, sul mare, affacciato sul mare, la grande ruota panoramica dell'estetista cinica Veralab, tutta rosa, ieri sera fate vederla dopo la chiusura, è anche abbastanza iconica e interessante che si staglia sul mare e con addietro invece la mensa nave da crociera della costa Ligure, della costa crociera scusate, che è lì, è lì che fa poi i collegamenti lo vedrete anche durante le dirette di Sanremo, vedrete che poi appunto ci saranno le dirette da lì, perché molti artisti canteranno proprio, proprio su quella nave dopo aver cantato anche poi ovviamente in concorso e anche tantissimi ospiti invece che non sono in concorso poi cosa succede? Allora poi si va alla sala stampa, sala stampa che è divisa, divisa c'è la sala stampa, c'è casa Sanremo che è una sorta di club, poi ci sono la sala stampa questa mattina andremo in sala stampa a seguire le conferenze stampa, quindi andremo lì e potremo fare domande ai veri artisti che verranno a presentarsi poi ci sono anche tutto la... ieri siamo andati all'Ariston, siamo andati all'Ariston perché siamo andati a prenderci i pass, stampa accreditata e quindi c'è l'ufficio con il personale super efficiente di Mamarai che gestisce tutto questo, davvero io non... adesso cercherò di capire quanta persone ci sono, ma parliamo di migliaia e migliaia di lavoratori che sono impegnati nel far sì che tutto vada nel migliore delle maniere e quindi siamo solo all'inizio, ma sicuramente sarà una settimana bellissima, interessantissima, molto stancante, ma con grandi grandi soddisfazioni e adesso Mahmood! Mahmood cocktail d'amore, 8 e 14 minuti alle 8 e un quarto della mattina di oggi, martedì 6 febbraio, siamo qui a raccontarvi tutto quanto in diretta da Sanremo, ma dobbiamo fare un salto a Milano perché è in arrivo il capodanno cinese, ebbene sì, sabato 10 è il giorno del capodanno, inizierà appunto l'11 di febbraio, il nuovo anno del drago e infatti l'11 febbraio alle 14 in programma la grande festa a Milano per il capodanno cinese, non in Paolo Sarpi, quindi attenzione, non in Paolo Sarpi dove sicuramente comunque se ci andrete qualcosa ci sarà, comunque qualcosa troverete, o meglio andate magari a mangiare e poi dopo vi spostate dove? All'arco della pace, in Piazza Sempione, all'arco della pace, dove ci sarà la tradizionale spilata degli abiti in costume, le esibizioni di arti marziali e il momento che tutti aspettano che è la danza del leone e del drago, poi quest'anno tra tutto il dragone, l'anno suo, l'anno del drago. Forza, salute, fortuna e armonia, queste sono alcune delle caratteristiche secondo lo zodiaco cinese del drago, del segno del drago, che quindi fa quest'anno il suo ingresso nell'anno a lui dedicato, l'anno del drago. Come dicevo appunto, arco della pace alle ore 14 inizierà tutta la manifestazione. Mi fate conto che ad esempio l'anno del drago sono quelli che sono nati nel 2012, nel 2000, nell'88, nel 76, poi dentro di 12-12, si va a salvare 12-12, ogni 12 anni ovviamente cambia l'anno. l'anno. Se volete fatevi un giro in Piazza Sempione, arco della pace, poi io o prima o dopo un girato in Polo Sarpi ce lo metterei dentro, perché sicuramente quel giorno ci sono anche delle cose interessanti da andare a vedere, da gustare, magari una volta buona che potete anche non andare per forza nel ristorante rinomato che avete visto sull'ennesimo profilo Instagram che vi dice, ehi, ciao, 5 posti dove andare a Milano a mangiare cinese come non avete mai mangiato. Ecco, no, magari scoprite che ci sono delle trattorie cinesi un po' particolari, che magari, ciao, i 5 posti dove mangiare il bauzi. Ecco, no, quelle robe lì che magari invece scoprite che ci sono. Andate e perdetevi, andate e perdetevi in quel bellissimo quartiere che è Chinatown. Secondo me, se non avete mai visto Chinatown nella maniera giusta, se non avete mai vissuto il quartiere cinese di Milano, credo che il giorno dell'11 di febbraio sia il giorno perfetto per andare a provare un'esperienza che davvero ci viene invidiata da molti, perché, attenzione, non tutte le città in Italia soprattutto, ma non tutte le città neanche del mondo hanno un quartiere così interessante come quello di Palo Sarpi, tra parentesi, quartiere che veramente negli anni è diventato qualcosa di molto, molto attrattivo. Tutti i locali e mai sono di un certo livello, l'esperienza culinaria, culturale, sociale che si può fare all'interno del quartiere è davvero, davvero delle più disparate. Ci sono anche i centri di centro studi della cultura cinese che è molto interessante, quindi io un diretto ce lo farei. Poi una camminatina, una passeggiatina, andate verso l'arco della pace, tanto non è lontanissimo, Milano davvero, ricordatevi una cosa, Milano si gira tranquillamente a piedi e potete tranquillamente viverla nelle migliori delle maniere, quindi io un diretto runtino a dirvelo, io me lo farei in Palo Sarpi. E dopo andate all'arco della pace, domenico 10 febbraio alle ore 14, manifestazione per il Capodanno cinese. Mister Clara Rain, le 8 e 21 minuti in diretta da Sanremo, ma se non potete venire a Sanremo come abbiamo fatto noi, vi sconsiglio anche di venirci, perché davvero c'è una confusione patessa e poi soprattutto non è che potete seguire il festival, cioè io non è che sarò dentro all'Ariston a seguire il festival, mi metto in una sala stampa insieme agli altri 800 colleghi con dei grandi maxi schermi a vedere con roba lì, quindi insomma, ve lo potete vedere anche da casa, o meglio potete andare in alcuni locali, perché sì, a Milano e prendiamo la notizia del Corriere della Sera Milano, dove vedere il festival di Sanremo a Milano, i locali che trasmettono l'evento in diretta per cantare e commentare Fanta Sanremo, karaoke, ceni a tema e giurie di qualità, con tante virgolette, tutti gli eventi legati al festival di Sanremo, ad esempio da Sanremo culturale urbano a Yellow Square e punto, allora, Mariculturale urbano ha lanciato questo Sanremo culturale urbano, ricordiamo via Quinto Cenni, la Cascina Torrette in zona San Siro, tre serate in programma, fatevi un giro sul loro sito, presentate dalle drag queen la Wanda Grastrica e Pepperita e poi con la giuria, poi ci saranno anche chi si potrà votare e fare tutto questo, si parte martedì 6 febbraio per poi votare tutti gli editi e poi si farà anche la giornata di venerdì e poi la giornata di sabato. Anche in questo caso ci sarà anche il Fanta Sanremo, quindi il Fanta Sanremo che ricordiamo abbiamo anche noi, c'è la Lega di Crystal Radio, la Lega di Crystal Radio c'è, vi siete iscritti, ormai non si può più fare, non sia più possibile iscriversi al Fanta Sanremo, adesso si controlla, sono qui in diretta con la app davanti, no, no, ecco, attenzione, hanno aggiunto un extra time, 6 ore e 37 minuti ancora per potersi iscrivere, quindi potete iscrivervi al Fanta Sanremo, avere una squadra e iscriverla alla Lega di Crystal Radio, la Lega si chiama appunto Crystal Radio, è più facile di così, se more, comunque non potete iscrivervi. Tornando invece ai posti dove Milano ci sono e si possono andare a vedere i festival di Sanremo, tutte le sere, tutte le sere ad esempio, quindi da questa sera fino a sabato invece c'è in Piazza Napoli un locale palco e cucina di Piazza Napoli 30, ok, si chiama così posto, un locale, palco e cucina, è famosissimo, andateci c'è Sanremissimo 2024, organizzazione, il festival al bar, hanno chiamato Sanremissimo 2024 il festival al bar, hanno unito un po' tutto quanto, anche lì è Maxi Scherm, è tutto per vedersi il Sanremo e anche il Fanta Sanremo, ma poi c'è anche Yellow Square, Porta Romana, Scrocco, Pasta e Sanremino, pubblico giovane e internazionale a Yellow Square, l'ostello appunto in zona Porta Romana, d'arco stasera al 10 febbraio anche loro, 19.30 Sizzaro Karaoke, poi si può fare la magnata de pasta, proposta nella formula All You Can It, quindi insomma davvero ce ne sono tantissime, ma poi c'è l'Arce Bellezza che avrà la musica dal vivo per la finale di Sanremo, ma poi c'è anche Sanmetro, pensate, perché ATM organizza Sanmetro, cioè il festival della canzone metropolitana, da martedì 6 a giovedì 8, dalle 16.30 a 17.30, sui palchi di Sound Underground, delle fermate Garibaldi, Loretto e Bicocca, ci saranno dei gruppi che si esibiranno, artisti, gruppi singoli, insomma che si esibiranno e vi faranno conoscere la loro musica, quindi anche se non volete seguire Sanremo, non volete seguire altra musica, c'è la musica di Sanmetro, fatevi un giro sul sito ATM per andare a vedere dove, quando e come Pink, all out of fight, 8.32 minuti, ultima mezz'ora in compagnia di Good Morning Milano qui in diretta da Sanremo, dove vi racconteremo, in realtà no, al momento non abbiamo ancora raccontato molto, promesso che vi racconteremo invece molto di più nei prossimi giorni, perché da oggi, già alle 11, andremo in sala stampa a seguire la conferenza stampa dei The Colors e quindi già un po' di milanesità arriverà in quella di Milano, che sappiamo che The Colors sono napoletani, ma comunque vivono a Milano, vivono nel mondo, praticamente ovunque vivono, quindi sono veramente dei globetrotter, ma poi, come diciamo, focus sui milanesi, ieri appunto abbiamo un po' pedinato, nel stesso modo del termine, il buon Gali, insieme al suo Ricciolo, che è questo personaggio molto strano che gira insieme a lui, con questa maschera particolare, insomma, che andrà a vedere come si interaggerà con noi e come interaggerà con il pubblico anche dal palco, salirà sul palco insieme a lui, non lo so, vedremo, scopriremo, cercheremo di andare a vedere anche le prove, se sarà possibile, insomma, Nintendo riusciamo magari a intrufolarci all'Arison a vedere qualche prova, dei nostri colleghi sono stati, ad esempio, a vedere le prove, hanno visto una grandissima Ferrella Mannoia in ottimo spolvero e quindi, insomma, andremo a cercare di capire ancora meglio che cosa potremmo raccontarvi di questa città, ricordiamo ieri sera, ad esempio, una grande festa di apertura, che però è stata un po' macchiata da questo allarme bomba che, insomma, evacuati tutti quanti, più di 20 big erano presenti a questa festa, in una villa proprio qui a Sanremo e tutti fuori, tutti fuori, è una cosa che, insomma, anche lo scorso anno era successo per la sala stampa e così, ripeto, con gli occhi del mondo sono qui, ma sicurezza davvero ovunque, tantissima sicurezza, tantissimi carabinieri, percorsi pedonali obbligati di ingresso e uscita dalle piazze e questo famoso green carpet, che è questa passerella green che attraversa i luoghi principali di Sanremo. Da questa sera anche il palco in Piazza Colombo verrà attivato, quindi i concerti in Piazza Colombo, in contemporanea con i cantanti che suoneranno e si esibiranno sul palco dell'Ariston, anzi, 3317853555 il nostro numero di Whatsapp e vado a leggere un messaggio che arriva da Erika che ci dice buongiorno, quindi da domani sentiremo le canzoni di Sanremo? Ebbene sì, allora stasera tutti i trenti cantanti suoneranno in modo che così da domani saranno disponibili poi tutte le varie canzoni, usciranno poi il nove, se non sbaglio, tutte le compilation anche con le canzoni di Sanremo e quindi insomma da lì poi tutti quanti potremo ascoltare tutti quante le canzoni di questo festival 2024. Andiamo avanti con la musica, adesso è il momento di Shakira insieme a Manuel Turizzo, insieme per Copà. Shakira Copà insieme a Manuel Turizzo, 8 e 39 minuti, Crystal Radio, Good Morning Milano, anzi sapete per questa settimana Good Morning Sanremo, anzi vi invito a collegarvi anche su Milano News dove potete vedere Sanremo in diretta, oltre alla mia faccia potete anche vedere il bellissimo panorama che ci accompagna in questo momento qui dalla nostra postazione nel nostro studio di via Mazza a Sanremo, eccoci qua, questa è la grande collina di Sanremo con la sua chiesa che sbetta in questo cielo che è un po' grigio ma so che vi facciamo compagnia, so che anche a Milano in questo momento non è delle migliori il cielo, c'è un po' di nuvolo, anzi mattinata con nebbia, mi raccomando, anzi attenzione se dovete recarvi fuori città la mattina presto o la sera tardi, molta prudenza sulle strade, la mia città anche da luce verde, attenzione, banca di nebbia in tutta l'Interland milanese, quindi mi raccomando attenzione, attenzione anche a quello che faremo in questi giorni perché racconteremo appunto tutto quello che vedremo qui a Sanremo e quello che succederà anche sul palco, palco che mi dà l'assist per leggervi un articolo da Corriere Milano che ha a che fare proprio con un palco social o meglio Milano è Gaia Aulenti il palco social dei Maranza, tra risse, furti e video su TikTok arrivano da tutta Italia, ebbene sì ormai Gaia Aulenti sta diventando un po' il palco utilizzato da questi cosiddetti Maranza, così ormai li chiamano che attenzione non sono quelli della nostra epoca, i Maranza per noi nati dagli anni 80 e prima erano un'altra cosa, erano quelli con l'autoradio sotto brancio che ascoltavano la musica ad alto volume in macchina, ma non erano la stessa cosa, adesso questi Maranza sono legati spesso e volentieri anche alla scena trap più underground, ci sono i Maranza, pensate alle Maranzelle, non so capito bene, come è che le chiamano le ragazze? Sì, le chiamano le Maranzelle ragazze, un po' come le sfittinzi all'epoca dei Paninari. Di base c'è un articolo di Matteo Castagnoli su Corriere Milano che inizia così, qualcuno stacca un cestino, qualcun altro lancia una sedia, le ragazze vestite con le stesse marche invece le chiamano Maranzelle, in tanti urlano a ripetizioni, free baby gang, il rapper ha gli arresti domiciliari. È così che inizia, una bottiglia di Heineken in frantume per terra ed è il segno che qualcosa sta succedendo, la rissa ha inizio, quindi risse, esibizioni, tutto questo che finisce poi su Instagram, su TikTok, tutto questo finisce poi pubblicato online e per quello che viene definito ormai Gaia Olenti il palco social di questo movimento così definito Maranza, che ricordo ancora non essere quello dei nostri Maranza, quindi leggermente diverso. Giubbottini smanicati neri lucidi, in testa verrettini da cui verretti, cappelli da cui escono i capelli lisciati che arrivano fino al pizzetto abbozzato. Ecco questo è un po' gli identikit che sul Corriere della Sera a Milano Matteo Castagnoli fa di quello che potrebbe essere il Maranza, il protomaranza, il prototipo del Maranza, come lo possiamo chiamare, se li hai fatto così, non riesco a dirlo Maranza normale, vieni a dire Maranza, capito? Anche la parola stessa ti fa capire come sono dei Maranza, cioè non lo riesci a dirlo normalmente, no? Comunque voi li conoscete Maranza, sapete chi sono di Maranza? 3317853555, scriveteci su Whatsapp e ricordiamo appunto anche grazie al messaggio di ieri che ci è arrivato che comunque stanno arrivando le canzoni in Sanremo, questa sera le ascolteremo tutte e trenta, chissà se c'è qualche canzone in Maranza, ci sono in Maranza a Sanremo, ma non lo so. Vasco Rossi con vivere, 8 e 47 minuti e vivere, vivere anche, venire una settimana a Sanremo e raccontarvelo in diretta qui su Crystal Radio e raccontarvi tutto quello che succederà, che poi io mi chiedo una cosa, ma adesso diciamoci la verità, ma com'è che è possibile che Sanremo abbia tutto questo hype alle sue spalle, tutta questa aspettativa, chissà se davvero 50 e passa anni fa quando è stato inventato questo festival si pensava che sarebbe diventato quello che è diventato, chissà, e invece sì, e invece è diventato quello diventato, davvero voi non avete idea della città in delirio che troveremo, io fa poco ho finito la trasmissione, adesso mancano pochi minuti, poi usciremo e cominceremo ad andare giù in città, qua sotto in realtà, due vie siamo all'Ariston, poi siamo a Sanremo ripeto, non siamo mica a Copenhagen, non siamo mica a Dortmund, non è che siamo a metropoli è sempre a Sanremo, comunque il delirio, dalle 8 del mattino fino a tardanotte, stanotte infatti sarà una lunga lunga notte, tutto quello che troveremo, tutto quello che troveremo lungo la strada ve lo racconteremo qui domani mattina alle 7 in diretta, ma soprattutto ditemi voi come mai avete questa passione per il festival, cerchiamo di capire, andiamo al noccio della questione, questo amore per Sanremo da dove arriva? 33178-53555, grazie mille a Erika che ci scrive e ci ricorda anche lei che fino alle 15 si può votare, si può iscriverci, si può iscrivere ancora al Fanta Sanremo e quindi fatelo, iscrivetevi e iscrivetevi alla Lega di Crystal Radio, Crystal Radio, la Lega del Fanta Sanremo che potremo vincere, gareggiare e poi domani dare i risultati, quindi anzi domani mi raccomando rimanete con noi perché vi daremo tutti i risultati anche della prima giornata di Fanta Lega del Fanta Sanremo di Crystal Radio, siamo qua per raccontarvi anche questo, siamo qua per giocare insieme, siamo qua per divertirci con la musica e anche per sentire la grande e buona musica italiana come ad esempio Tiziano Ferro con Rimmel. Tiziano Ferro con Rimmel, qui alle 8.53 minuti, quasi in chiusura se non pochi secondi prima per ancora sentire un po' di musica, darvi l'appuntamento poi a domani, ma in realtà poi dopo la sua sigla vi spiego tutto, ma sono voluto ricordarvi ancora per poche ore il Fanta Sanremo, quindi mi raccomando iscrivetevi, abbiamo pochissimi minuti, giusto il tempo di ascoltare massimo pericolo con le cose cambiano. 8.56 minuti e 53 secondi, super ritardo per chiudere la buona di oggi, la prima in diretta qui da Sanremo di Good Morning Sanremo. Ebbene sì, torneremo domani sempre qui in diretta dalle 7 alle 9 per raccontarvi tutto quello che avviene a Sanremo ma anche quello che avviene a Milano, insomma cercheremo di mettere insieme le due cose, cercheremo di raccontarvelo come sempre nella migliore delle maniere, come sempre con tanta musica qui su Crystal Radio. Dopo di noi, come sempre, Ambrogio Curti con Senti Questa, l'abbiamo già sentito lunedì, grande settimana di musica anche per Ambrogio Curti, grande settimana di musica come sempre qui su Crystal Radio, dopo di noi, Ambrogio Curti con Senti Questa. 3 3 1 7 8 5 3 5 5 5, ma da anche le richieste, se volete, chi volete che, di chi volete l'autografo oppure volete solo del pesto, cosa vi porto da Sanremo? E allora appuntamento a domani dalle 7 alle 9 qui su Crystal Radio, Good Morning Milano, speciale Sanremo, Good Morning Sanremo, come sempre in diretta qui con Fabio Ranfi, al microfono, Crystal Radio, Good Morning Milano, ciao a tutti, buona giornata, ciao ciao!